E' tutto pronto ormai per il secondo appuntamento Convivi la tua città, organizzata per domani sera dal comune di Campobasso. Concerti, musiche e bancarelle animeranno le vie della città e del centro storico. Ci saranno poi diversi punti d'incontro con il gusto e per l'occasione la pasticceria La Dolce Napoli presenterà insieme al ristorante La Prodo novità e dolci tipici della tradizione partenopea. Saremo lì in collaborazione con La Prodo al fondaco della farina, proporremo un po' di novità, un po' di sfogliatelle sia rustiche che salate, vari assortimenti, sfogliate con mandorle come vediamo che stiamo anche in fase di prova e preparazione, sfogliatelle tradizionali, Santa Rosa, sfogliate al cioccolato, al caffè e quant'altro. E in più si proporrà coppette di frittura di pesce, panini, solita menage di panini alla brace con salsiccia, hamburger e quant'altro. Il tutto per passare una serata all'insegna della tranquillità, selenità e per dare un po' di movimento e un altro po' di vita, una botta di vita a questa città, al centro cittadino che sembra che sia un po' spento. Cercherete quindi di prendere le persone per la gola? Proviamo a prendere la gente, ma che altro posto più bello esiste di prendere le persone per la gola? Almeno resteranno deliziati e per il sapore, abbiamo creato un bel evento, ci sarà una serata all'insegna anche della musica con un gruppo, i musici, è un gruppo che proporrà dei pezzi partenopei a stile Renzo Arbore e in più anche altre musica all'avanguardia e quant'altro. Grazie